omicidio panzieri domani via il processo a carico dell'assassino Michael Alessandrini nel porto di Ancona il decimo sbarco di migranti soccorsi dalla nave umanitaria Joe Barents dal verde pubblico alle farmacie riparte la Aspes con Pieri ancora presidente dalla costa alla buona tavola Confcommercio promuove la bellezza in blu tagliatelle spettacoli torna novilara arte gusto Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione serale di Rossini News questa sera telegiornale di martedì 2 di luglio che apriamo con la cronaca giudiziaria perché dopo giorni che sono stati caratterizzati nel nostro territorio dal duplice omicidio terribile avvenuto a Fano dei coniugi ricci ora c'è un altro sconcertante delitto che torna sulla scena giudiziaria ovvero quello dell'omicidio del peserese Pierpaolo Panzieri avvenuto nel febbraio 2023 dopo il rinvio a giudizio per Michael Alessandrini formulato 4 mesi fa domani inizia il processo a suo carico per omicidio plureaggravato domani 3 luglio parte il processo a carico di Michael Alessandrini davanti alla corte d'assise del tribunale di Pesaro il 31enne Alessandrini è reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri 27enne che fu ucciso con 23 coltellate nella sua casa di Via Gavelli in pieno centro storico a Pesaro il delitto avvenne il 20 febbraio 2023 al quale seguì una fuga in auto oltre confine dello stesso Alessandrini interruttasi con l'arresto in Romania gli step processuali hanno finora riconosciuto una semi-infermità mentale dell'imputato che non lo esenterà però dall'andare alla sbarra per omicidio plureaggravato le udienze davanti al GUP lo scorso marzo hanno infatti ufficializzato il rinvio a giudizio per Alessandrini riconoscendo le tre aggravanti di premeditazione, futili motivi e crudeltà aggravanti dell'omicidio che arrivano dopo una serie di interrogatori in cui Alessandrini accampò da prima motivazioni deliranti quali ordini divini per poi far emergere lo scorso marzo un risvolto sentimentale nei confronti dello stesso Panzieri da domani inizia l'iter giuridico nei confronti di Alessandrini attualmente in custodia nel carcere di Villafastigi il 31enne rischia l'ergastolo e a difenderlo saranno gli avvocati Carlo Taormina e Salvatore Asole Sara Altomeni è morta per una intossicazione acuta è stato questo il primo responso emerso dall'autopsia sul corpo della 42enne fanese trovata senza vita domenica dalla madre nella sua casa delle quartiere San Lazzaro per capire cosa abbia causato questa intossicazione si attende l'esito degli esami tossicologici che dovrebbe arrivare entro 60 giorni intanto i carabinieri nel corso delle indagini hanno sequestrato una siringa rinvenuta tra gli oggetti nel domicilio della donna e si sta ricostruendo la rete dei contatti della stessa Sara Altomeni questa mattina nel porto di Ancone sbarcata la nave umanitaria Geo Barents di Medici senza frontiere nello scalo d'orico sono approdati con la nave 34 migranti salvati dal naufragio del Mediterraneo a largo della Libia e trasportati per ben 1500 chilometri fino al porto marchigiano si tratta del decimo sbarco di migranti avvenuto ad Ancona i 34 naufraghi provengono in prevalenza da Sudan, Eritrea e Siria 14 di loro sono minori non accompagnati 7 di questi saranno trasferiti in struttura d'accoglienza del Molise gli altri verranno presi in carico da strutture marchigiane chiusa la parentesi elettorale non si è completato soltanto il quadro del Consiglio Comunale di Pesero ma anche quello delle nomine nelle aziende pubbliche fra queste c'è ad esempio Aspes in cui continua la presidenza di Luca Pieri dopo 10 anni alla guida dell'organo deputato alla cura del verde pubblico dei servizi cimiteriali, delle farmacie comunali e della gestione della vitre Frigo Arena 10 anni di gestione di Aspes che ha di fatto raddoppiato il numero dei soci dei comuni che si sono associati siamo passati da 9 a 18 un raddoppio del fatturato, un raddoppio dei servizi gestiti quindi diciamo un ringraziamento va per questa mia nomina al sindaco di Pesero Andrea Biancani che avendo la maggioranza assoluta della società con l'84% proprio per statuto indica il nome del presidente di un altro membro del Consiglio Amministrazione al tempo stesso va anche a tutti gli altri sindaci, tutte le altre amministrazioni che hanno scelto di affidare in forma diretta la gestione dei servizi ad Aspes ricordiamo che i servizi che gestiamo sono tanti vanno dal verde urbano passando per la gestione dei tributi e della riscossione coattiva per la vitre Frigo Arena e molto probabilmente anzi già in questo momento stiamo gestendo anche l'auditorium Scavolini per servizi cimiteriali poi abbiamo società, siamo di fatto in una holding abbiamo le quote di maggioranza della Pesero Parcheggi siamo soci al 50% con Aset e gestiamo l'impianto di cremazione quindi diciamo i servizi sono tanti il ringraziamento va a quei comuni che come mi piace ricordare non sono tutti dello stesso colore anzi i comuni che si sono associati nel tempo e che ci hanno fidato i servizi sono comuni di colore diverso rispetto alla matrice che mi indica cioè quindi al centro sinistra del comune di Pesero e questo ci fa piacere aggiungiamo a questo che siamo una società che è sbarcata tra virgolette in Romagna perché soci sono diventati nel quinquennio precedente il comune di Riccione e il comune di Coriano che ci hanno fidato la gestione della riscossione coattiva non dimentichiamo che noi gestiamo complessivamente come gruppo 16 farmacie che sono diciamo dal punto di vista economico e di bilancio la voce più importante insomma che la fa tra virgolette da padrone che ci permette essendo un servizio al mercato di poter così dare servizi anche a un minor costo ai comuni grazie appunto all'utilità che quel servizio genera dal punto di vista del bilancio ed ora parliamo di due iniziative di promozione della nostra costa e della buona tavola che deriva dal nostro mare due iniziative che sono state presentate oggi presso la Confcommercio di Fano gli itinerari della bellezza dei 25 comuni della provincia di Pesero Urbino promossi da Confcommercio Marche Nord trovano una loro nuova declinazione costiera quella della bellezza in blu vale a dire la qualità dell'offerta balneare che corre nei 40 chilometri che uniscono Gabiccia e Marotta passando per il San Bartolo e le spiagge di Pesero e Fano proprio la Confcommercio di Fano ha tenuto a battesimo questa mattina la nuova brochure promozionale che arriva dopo giorni di press tour in cui Confcommercio ha ospitato la stampa specializzata nazionale alla scoperta delle nostre località costiere e della loro tradizione marinara 40 chilometri di spiaggia che rappresenta un'unicità un'opportunità unica per i turisti perché abbiamo le spiagge adatte ai bambini i bassi fondali, la sabbia abbiamo le spiagge sassose, i litorali sassose abbiamo il parco regionale del Monte San Bartolo con le sue calette con la baia di Vallugola quindi abbiamo un'offerta balneare molto importante non era mai stato fatto una brochure, un Deppian che contenesse insieme le quattro località balneare ogni comune aveva o ha il proprio Deppian ma presentare nei mercati nazionali e internazionali l'offerta balneare della provincia di Peso Urbino unitariamente non era mai stato fatto noi abbiamo deciso di fare uno strumento snello, smart come si dice oggi da presentare, ovviamente già in distribuzione negli uffici IAT ma la cosa più importante è che sarà distribuito in tutte le fiere nazionali a cui noi parteciperemo a cominciare dalla fiera del turismo UNESCO di Genova al TTG di Rimini e a tutta la fiera di Pestum e tutte le altre iniziative a cui Confcommercio sarà presente per l'itinerario della bellezza e poi c'è la qualità proposta a tavola dalla nuova edizione dei WIC gastronomici da mare che partono in questo mese di luglio in 19 ristoranti ben 14 dei quali a Fano i ristoratori fanesi i ristoratori piesaresi poi abbiamo Castel di Mezzo Gradara tutta la nostra costa la maggior parte della nostra costa ha aderito a questa iniziativa che ogni anno vede crescere sempre di più il coinvolgimento e l'iniziativa è stata pensata per luglio e settembre proprio perché agosto generalmente c'è il fermo pesca ma non solo quest'anno si è allargata perché è vero che si chiama Weekend a mare ma ci sono anche dei prodotti di carne perché devono caratterizzare ogni locale e quindi ogni locale ha aderito con un menù pensando a un cliente e a un turista che viene per fargli sentire dei piatti tipici del proprio locale un range di prezzo ma non c'è un prezzo fisso per tutti che è fondamentale perché comunque ogni ristorante è a sé ogni ristorante ha la sua caratteristica e ogni ristorante propone anche un piatto e un servizio diverso e ognuno ha il piacere anche di vedere come voler spingere insomma il proprio il proprio menù ecco e dai ristoranti che propongono Weekend Gastronomici passiamo ora a chi come l'alberghiero Santa Marta forma il comparto della ristorazione di domani e fa un grande passo in avanti in tal senso organizzando da domani sera il Santa Marta Festival il festival già dall'anno scorso nasce da una riflessione che ci siamo fatti noi come scuola cioè i nostri ragazzi speciali e non solo speciali una volta che hanno terminato gli studi che fanno c'è una grossa problematica per inserirli nel mondo del lavoro e noi vogliamo dimostrare con questo festival che hanno le competenze come tutti gli altri possono benissimo essere inseriti nel lavoro quindi crediamo ecco con questo di sensibilizzare la popolazione i ristoratori gli albergatori gli addetti al settore ma non solo anche i politici perché vogliamo che vengano create delle basi delle leggi delle norme che permettano questo magari che possano agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro io sono estremamente orgogliosa di questa scuola e di quello che questa scuola riesce ad organizzare siamo alla seconda edizione di un festival dedicato all'inclusione dove questa scuola appunto si mette in gioco per dare delle opportunità ai nostri ragazzi che si prestano molto volentieri e che possono mettere in campo le professionalità acquisite durante l'anno ci mettiamo in gioco e chi deve chi parteciperà e spero in tanti a questo a questo evento lo fa proprio come l'idea di venire in un ristorante non di venire in un festival particolare ma deve venire in un ristorante deve sentirsi in un posto che ci sta bene ecco questo è lo scopo principale la professionalità del Santa Marta attraverso i suoi ragazzi per ogni serata abbiamo individuato degli artisti che hanno dato la loro professionalità gratuitamente capendo anche il progetto che stava dietro abbiamo band di ragazzi di nostri alunni che vanno sono in alcune scuole di musica pesaresi abbiamo compagnie teaterali di Pesaro e via dicendo oggi per esempio abbiamo degli insegnanti alunni che ci allietano con il loro canto in questa serata questo festival è nato l'anno scorso con l'idea di riflettere insieme di allargare le maglie di una rete sociale molto importante sociale e lavorativa per sensibilizzare il mondo del lavoro cioè chi accoglie le persone al lavoro e chi ha bisogno di andare a lavorare il problema grande ce lo abbiamo con le persone che hanno difficoltà intellettive in particolare per cui il festival dall'anno scorso era nato per stimolare questa riflessione la risposta dell'anno scorso è stata grandiosa ci aspettiamo un'altra risposta altrettanto forte e calorosa anche per questo mese di luglio per cui ecco l'occasione è di andare avanti ogni anno metteremo un tassello in più la società cambia le esigenze cambiano cambiano le esigenze dei servizi degli enti delle famiglie ci sono bisogni diversi da quelli che avevamo negli anni 90 per intenderci e per cui abbiamo bisogno di ripeto allargare questa maglia e continuare a confrontarci Marche Multiservizi comunica agli abitanti di Tavuglia che sono in programma lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica a Case Bernardi Rio Salso nell'ambito del progetto di potenziamento della rete idrica delle comune domani 3 luglio i lavori comporteranno una sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile o cali di pressione portata tra le ore 9.30 e le 17 sulla strada statale Fogliense strada Mezzacosta strada dei Giunchi strada Montevecchie strada San Martino via Rubicone via Metauro e più in generale nella località di Rio Salso e continua la partenza ufficiale delle nuove amministrazioni pubbliche uscite dall'ultima tornata elettorale in tal senso è arrivato il primo consiglio comunale a Montelabate per il nuovo sindaco eletto Roberto Rossi un consiglio comunale composto da 12 consiglieri di cui 4 assessori individuati nelle persone di Silvia De Gennaro Lisa Giacomini Emanuele Damiani e Riccardo Rossi ed ora parliamo di eventi culturali nel programma di Pesaro 20-24 non poteva mancare la rassegna estiva più amata dai bambini parliamo del BOF Burattini Opera Festival giunto alla 37esima edizione da domani 3 luglio fino al 12 di luglio sempre alle 21.30 sei appuntamenti nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca con spettacoli di compagnie dedicati a Burattini e Marionette si comincia domani con le strane creature di Transilvania Circus della compagnia fiorentina teatro delle 12 lune gli edizioni ne ha invece qualcuna di meno Novilara Arte Gusto che da venerdì torna a proporsi con una formula consolidata e sempre più ricca taglia il traguardo della 12esima edizione la manifestazione Novilara Arte Gusto che come ogni estate torna ad aglietare le serate del Borgo Storico di Novilara dal 5 al 7 luglio l'appuntamento è quello con una formula consolidata che ruota attorno alla gastronomia del piatto simbolo delle tagliatelle coi fagioli insaporite dal contorno di una ricca serie di appuntamenti culturali dagli spettacoli comici alle mostre d'arte dalla musica alle degustazioni Avremo tantissimi ospiti uno per sera quindi stanno aumentando che alimentiamo le proposte non solamente la parte e in o gastronomica perché come sempre siamo accompagnati anche dall'AIS con la delegazione di Pesaro quindi è diventato un momento celebrativo del territorio perché ci piace parlare di territorio in questo evento dove mettiamo in rete tantissime cose dai prodotti i produttori ma anche gli ospiti e le varie associazioni che ci sono intorno A prendersi il palcoscenico principale saranno due personaggi di Zellig come Leonardo Manera che si esibirà il venerdì e lo show di Poli Tabaldini previsto il sabato la domenica sera spazio da Andrea Paris da Italia's Got Talent per tre artisti da copertina dentro un programma di arte e spettacoli ancora più ampio avremo il venerdì Elisa Menini che è una fumettista e farà un horror dinamico analogico una cosa molto particolare anche il sabato sera invece avremo uno spettacolo più di artisti di strada con Kira che lui è un artista che fa uno spettacolo dentro la ruota Sir e poi invece la domenica chiuderemo in modo più morbido avremo addirittura Elisa Prioli che arriva al suo decimo anno e quindi si racconterà un po' tutta la sua storia però quello che è importante dire è che in questa sinergia ci sono più eventi negli eventi che a volte è difficile da comunicare perché il venerdì e il sabato avremo le degustazioni con l'EIS appunto con i vari produttori e il Concept Wine che ci porta anche dei vini stranieri e invece la domenica facciamo questo momento più rilassante dedicato ai giovani con Mayo Noise che è un collettivo di artisti pesaresi La componente del gusto avrà il suo fulcro nella tipicità delle tagliatelle ma fra degustazione e cooking show non mancherà la grande attenzione a vini ed oli nell'ottica dei progetti comuni con associazione italiana sommelier e DOP di Cartoceto Quest'anno introdurremo le degustazioni al tramonto che sono delle degustazioni guidate appunto da uno dei nostri sommelier e introdurremo durante i cooking show degli speed tasting che sono delle rapide confronti tra vini che si possono abbinare ai piatti che vengono preparati sul momento Ci sentiamo molto in sintonia con la iniziativa di Novilara l'olio DOP di Cartoceto è un'eccellenza a livello nazionale è un'eccellenza anche nella nostra regione è un territorio specifico molto molto contigo alla realtà di Novilara in questo senso quindi siamo molto onorati di partecipare con il nostro prodotto con la nostra qualità e soprattutto siamo onorati di essere inseriti in un contesto di prossimità di paesaggi di identità culturali comuni e sarà questa prima iniziativa una delle tante che svilupperemo alla luce anche di una ipotesi di itinerario che vorremmo costruire che porti naturalmente a valorizzare il paesaggio agrario e ambientale della nostra provincia Io non sono pesarese però dall'89 che vivo a Pesaro e sono contento che Pesaro stia andando ai livelli che si merita Da Novilara ad un'altra collina pesarese quella di Monte Ciccardo che propone un'altra rassegna questa volta musicale si intitola Conventinote Conventinote è il programma musicale previsto al conventino di Monte Ciccardo da giovedì 4 luglio per tutti i giovedì del mese avremo la possibilità di aprire il conventino sia per la proposta musicale di vari generi e la possibilità di fluire della mostra borderline allestita perennemente al primo piano quest'anno special edition con Federico Malaventura che è il tecnico d'arte di Pesaro Segreta che accompagnerà i visitatori alla scoperta di questa mostra molto interessante e attraverso la collaborazione con la prologo di Monte Ciccardo sarà possibile fruire della bellezza del conventino a partire dalle 19.30 con la degustazione di prodotti tipici locali e poi alle 21 i concerti musicali e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci però vi ricordiamo alcuni appuntamenti sul nostro canale 80 a cominciare dalla prima serata di questo martedì 2 luglio che alle 21.20 porterà la nostra Nicoletta Tagliabracci a farvi scoprire frutta più di che ci anila alle 21.40 invece nuovo appuntamento con Sinfonia di Maestri il racconto dell'orchestra sinfonica Rossini nelle trentennale di questa istituzione musicale della nostra provincia ospite questa sera sarà proprio il presidente e sovrintendente dell'OSR ovvero Saul Salucci intervistato dal nostro Antonio Astuti e poi naturalmente vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi si chiude invece qui l'informazione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata con i programmi di Rossini TV